Dimenticavo, gli studi televisivi in cui vivono e dormono e recitano i concorrenti, cioè i talenti, non hanno finestre. Una capatina dovrebbe farcela prima o poi un assistente sociale o vari organi di controllo per capire e verificare le condizioni psichiche di questi ragazzi. O continuiamo a far finta di niente. Vogliamo mandare degli assistenti sociali per vedere che lì, dentro, in quella specie di nager, horror, non sono rispettate le idee della Costituzione.